a me sti odori questi sapori questi aromi che è proprio la dieta africana desertica niente perché in Africa un bambino su quattro rischia di morire di malnutrizione dobbiamo agire adesso per salvargli la vita dai peso a chi non ce l'ha 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 sostieni amref visita il sito amref.it basta poco che ce l'ho